Diciamo, vorrei sorridere anch'io, ma purtroppo la situazione è preoccupante perché abbiamo milioni di italiani che faticano a mettere insieme il pranzo con la cena, un'inflazione alimentare che supera il 10% e chi va a fare la spesa, chiunque va a fare la spesa se ne accorge, un tema di salari fermi al palo ormai da anni, il tema di 4 milioni di lavoratori poveri che non riescono ad arrivare alla fine del mese perché hanno un salario talmente basso, al di sotto di 9 euro l'ordi l'ora, che appunto non riesce a dare la possibilità a queste persone di arrivare alla fine del mese. In tutto questo il governo che ha fatto? Ha tolto la possibilità a centinaia di migliaia di persone, 400 mila persone ad oggi completamente abbandonate dal governo che praticamente non hanno più nessun sostegno e che cosa ha fatto il governo? Le ha sostituite con una misura che non funziona, praticamente hanno fallito. Allora, le hanno abbandonate queste 400 mila famiglie, ci sono, e lo dice Istat, quasi 6 milioni di poveri in Italia. Io credo che sia indegno per uno Stato come l'Italia, per un grande paese come l'Italia, lasciare indietro le persone che anche temporaneamente magari vivono una situazione di difficoltà economica, quindi questo è vergognoso. Il tema però è dove vuole andare a parare questo governo? Perché ha abbandonato da una parte queste 400 mila famiglie completamente. Dall'altro lato però tutela i poteri forti. Perché tutela i poteri forti? Perché guardate che queste famiglie abbandonate di contro si vedono il governo che tutela le banche che hanno fatto nel 2023 28 miliardi di euro di utili. E allora che cosa voglio dire? Che da una parte il governo taglia le misure a sostegno della povertà, quasi 2 miliardi di euro sulle misure a sostegno della povertà, dall'altro lato non va a colpire gli extraprofitti delle banche che hanno fatto, ripeto, 28 miliardi di euro di extraprofitti e si potevano recuperare intorno ai 4 miliardi di euro per aiutare per esempio quelle 2 milioni di famiglie che non stanno riuscendo a pagare le rate dei mutui perché ormai le rate sono arrivate ad un livello altissimo. Questa situazione il governo non la vede, sta abbandonando completamente tutti gli italiani in difficoltà, non solo quelli che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. E allora io, dottor Del Debbio, mi chiedo ma le pare normale che in questo paese si abbandonino milioni di italiani in difficoltà e debbano pagare sempre e fare sacrifici i pensionati, i lavoratori, gli imprenditori, si debbano fare taglia alla sanità e ci siano le banche che fanno 28 miliardi di euro di utili? Io credo che questo sia vergognoso e il governo non fa nulla. Se non vivete la realtà, cercano di avvelenare la vita del paese e di finanziare con l'assistenzialismo una cattiva politica sociale. Noi creiamo lavoro. Sentiamo donno un attimo e terminiamo. E i fatti sono questi. Venga con me un giorno. Vabbè Gasparri, sappiamo, diciamo, lei ormai da 30 anni vive a Roma nei palazzi, quindi sappiamo la vita reale che è proprio totalmente distante dalla realtà, il suo concetto, ma volevo dire questo. Cioè noi dobbiamo guardare intanto il dato che citava Gasparri, è un trend in crescita ad aprile del 2021. L'occupazione cresce dopo la pandemia grazie alle misure espansive messe in atto anche dal governo Conte, quindi alle misure economiche fatte dal governo Conte. L'occupazione è crescita dal 2021. Ovviamente noi siamo contenti se c'è un posto di lavoro in più. È chiaro che però bisogna andare a vedere la qualità del lavoro e quanto viene pagato questo lavoro. È un problema di lavoro sottopagato. Il problema è che Gasparri sottovaluta che c'è un calo della produzione industriale grazie alle loro misure da 12 mesi consecutivi. La produzione industriale che cala per 12 mesi consecutivi un meno 3,4% su base annua. E in più c'è il record, e omette di dirlo ovviamente Gasparri, di richiesta di cassa integrazione a gennaio. La cassa integrazione straordinaria più 200%. Ho finito il tempo. Ci state portando verso il disastro economico. Grazie pubblicità.